Eccoci qui come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati, finalmente il sole, mi raccomando commentate, lasciate un bel like e iscrivetevi qui numerosissimi e mi raccomando partecipate. L'iniscrezione molto importante arriva da Roma, dal Messaggero, zona Roma e Lazio e non è per la prima volta accostato al Milan, anche un mesetto e mezzo fa ne avevamo parlato, però da seguire questo F5, questo richiamo, questo aggiornamento che arriva appunto dall'ambiente romano, secondo cui Zlatan Ibrahimović in persona vorrebbe portare a Milano Felipe Anderson. Felipe Anderson è un giocatore brasiliano di 30 anni, che è nella Lazio da diversi anni, era andato via, poi è tornato e ha il contratto in scadenza giugno, quindi è un parametro zero. Molto interessante, se vogliamo, ho visto anche l'esperienza, quest'anno lui, oggi giocherà poi in Coppa Italia contro la Juventus, lui ha fatto 3 gole e 6 assist quest'anno in Serie A, è un giocatore da rendimento però, devo dire, garantito e costante. Lo scorso anno fece benissimo, con 9 gole e 6 assist, l'anno prima 6 gole e 8 assist, giocatore jolly che può giocare un po' da tutte le parti, sia a sinistra che in mezzo, come falso nueve, ma prevalentemente come esterno di destra, dove però il Milan è coperto. È la necessità? Sicuramente no, il Milan tra le Aokafor, Pusici Ciuqueze è decisamente coperto. Potrebbe essere un'opportunità, ripeto, è sicuramente un'opportunità a parametro zero, se l'ingaggio non è elevato può essere un po' il jolly dell'attacco, che probabilmente piace a Zlatan Ibrahimovic anche per esperienza, Milan che secondo me guarderà molto anche il mercato dei parametri zero, profilo che ti porti a casa a zero appunto. Da battere la concorrenza della Juventus, dopodiché, vediamo, potrebbe essere anche una voce messa in giro ad arte dal suo entourage per cercare di mettere fretta alla Juve. e alzare magari l'offerta. Quest'anno ho giocato prevalentemente sulla destra, ma anche sulla sinistra. Che ne pensate? Scrivete uno qui sotto nei commenti, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, numerosissimi. Un saluto e grazie.